signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai questa è la seconda parte dello speciale di halloween che inaugura il settimo anno del canale per chi non avesse visto la prima parte vi lascio il link qua in alto e queste sono le altre storie che mi sono state inviate per le storie del terrore di halloween non perdiamo altro tempo perché di storie ce ne sono veramente molte la prima ce la manda federico zanforlin ed è un racconto di quando era ragazzo anno 2008 masteravo dnd for fun con alcuni ragazzi con cui condividevo il dormitorio anche ammettendo che fossimo tutti lì per fare cagnara e nessuno la prendesse sul serio avevo un giocatore che alla guida di un ognomo faceva ogni volta le giocate più stupide possibili perdendo tempo allontanandosi dalla missione creando caos qualche esempio dirigersi alla taverna per andarsi a bere una bella birra nonostante il gruppo si dedicasse alla missione rubare l'impossibile dappertutto fino a quando non ho dovuto fare un'azione da god master per fargliela piantare lì giocate fatte addirittura per mettere in difficoltà a me che masteravo e che mi ritrovavo a gestire un gruppo assennato più lui che a tratti avrei desiderato strangolarlo il master cae non ammette né smentisce che strangolare i giocatori fastidiosi sia un modo per risolvere il problema ma chi sono io per impedirvelo provateci questo probabilmente è una delle cose più comuni e più fastidiose che possano capitare quando sei un master e la risposta l'abbiamo detto più volte se un giocatore per qualunque motivo non è adatto a quello che è lo stile del party mandatelo via e sostituitelo con un altro giocatore si fa prima a cambiare giocatore che cambiare un giocatore il prossimo contributo per questo video ce lo darà willix stiamo facendo una sessione in un setting con molta poca magia e molto razzismo verso razze strane e soprattutto mostruose ne abbiamo qualcuna nel party andiamo da un pastore per aiutarlo e lui appena li vede si nasconde chiude la porta e va a infilarsi sotto il letto perché in vita sua non aveva mai visto mostri buoni e non sapeva neanche che tali creature fossero pensanti io ho detto poverino aiutiamolo che gli potrebbe prendere un infarto e tutti tra nel master si sono messi a dire che non dovevo permettermi di dire poverino a un razzista se mai xemofobo poi e che poteva morire e la mia voglia di aiutarlo è orribile siamo stati a litigare almeno due orette e in pratica la sessione è saltata cioè povero vecchietto dai io dicevo poverino solo perché mi faceva piene poteva letteralmente schiacciare di paura da un momento all'altro lo sapevate che il setting era così e sì la morale della storia è che l'unico modo per rispondere correttamente all'intolleranza è più intolleranza perché questa è una gara e adesso il contributo da uno degli iscritti che però vuole rimanere anonimo perché si vergogna di quello che è successo al suo tavolo quindi questa la chiameremo semplicemente la storia di leonida campagna idnd 3.5 l'idea era giocare qualche cosa di livello elevato dato che spesso e volentieri avevamo abbandonato campagne precedenti finite o lasciate al loro destino a non più del decimo livello decidiamo quindi di fare una campagna partendo dal livello 15 scelta le classi da manuali che avevamo disponibili così come l'equipaggiamento da master lascia un quantitativo di monete bello corposo e i giocatori scelgono delle combinazioni multiclasse di tutto rispetto andando quindi a prendere classi prestigio molto forti tutti tranne uno di questi giocatori uno era entropomante e aveva a disposizione una sfera di entropia oggetto magico che di fatto è un buco nero e tutto quello che oltrepassa l'orizzonte degli eventi viene inghiottito e non esce mai più tiro salvezza sui riflessi nega me lo ricordo l'entropomante era particolarmente onesto come classe il giocatore con il pg più debole un umile ladro umile in confronto agli altri vede morire il suo personaggio ed insiste nel voler giocare un guerriero vabbè faccio presente che se non prende almeno il multiclasse in qualcosa non si diverterà molto visto che il gap tra la sua presenza e quella degli altri niente da fare vuole un leonida che viene da sparta o una città simile ma con quel design modifico la campagna gotica cupa e con order su order di non morti introducendo nella loro un continente segreto quasi un semipiano dove non sono mai arrivati non morti eccetera quattro settimane di lavoro durante una sessione concordiamo l'introduzione del pg e durante uno scontro si palesa leonida live al tavolo era alle stelle per come avevo presentato il pg che si sarebbe unito al party e il fattaccio la scena su griglia quadrettata diceva che la sfera di entropia dell'entropomante si trova a due quadretti al nemico il giocatore dichiara master leonida corre verso il nemico fa un'acrobazia sopra la sfera per dimostrare che non temerà morte come da background di alcune pagine e prova a trafiggere il capo del nemico tutti al tavolo ci guardiamo e gli altri giocatori dicono ma non puoi semplicemente passare a fianco della sfera ed attaccare ed il giocatore leonida non è pavido affermo che serviva un tiro salvezza sui riflessi per evitare di saltare nella sfera visto la pericolosità del gesto e chiedo per ben due volte se è sicuro di voler procedere con l'azione affermativo tira è uno sul diventi tiro salvezza insufficiente leonida è durato ben dieci minuti nella campagna mi guardano e chiedono ritira vero io tra l'incazzato e l'incredulo rispondo negativamente e niente nel mio gruppo questa morte la narriamo ancora la cosa più svalorativa di tutto questo è che non è neanche la morte più stupida che ho visto un personaggio auto infliggersi ma immagino che dopo un mese di lavoro per introdurre un singolo personaggio di un singolo giocatore che il giocatore se lo flappi in una maniera così idiota solo per voler fare il magnifico al tavolo sia una cosa che causa una rabbia indescrivibile la morale di questa storia è quindi non concedete mai nulla ai vostri giocatori per nessun motivo e questo ce lo ricorda anche antonio spezzati col tuo contributo la scena più inutile manuale peggio scritto non possono essere le esperienze peggiori mai avute a un tavolo perché la realtà dell'essere umano è sempre più abominevole delle sue fantasie più pucpe la mia peggiore esperienza perciò è portata alle persone tra master che vogliono giocare a fare dio e giocatori che hanno frainteso cosa sia il gioco di ruolo non passate tante ma secondo me nulla batte la mia prima sessione da master questa all'aria di essere veramente interessante sia chiaro non ero una cima come non lo sono tuttora è alla primissima volta che facevo da master a dnd su discord e dopo un tiro fallimentare su furtività il party vicino a un sentiero fa un eccessivo rumore che attira un branco di rabbiosi cani randaggi per giustificare il risultato del dado del rumore narra una serie di sfortunati eventi il terreno scosceso e pieno di fogliame naturale fa scivolare il ranger che indietreggiando per mettersi in equilibrio spezza un ramo a terra il rumore fa incazzare un corvo che gracchiando vola davanti al volto del ranger facendolo indietreggiare ancora spaventato per il comportamento aggressivo della creatura dopo questa narrazione il giocatore tira fuori che il ranger non può mai essere sorpreso in qualunque caso cosa che non è affatto così perciò passiamo mezz'ora a cercare di fargli capire cosa il privilegio di classe li consenta di fare noi non lo accetta e dopo avermi dato dell'incapace insultato e fatto i capricci mi permette di chiedere l'opinione degli altri giocatori al tavolo che danno piena ragione a me a quel punto il grand uomo inizia a insultare anche i giocatori e lì ringrazio che fossimo su discord per lo semplicemente bannato dal server e dalla partita nella realtà è veduto sollevarlo di peso e buttarlo fuori dalla finestra questa è la più abominevole ma tra master che non conoscono minimamente il gioco e pretendono di insegnarlo a te che lo masteri da tre anni e giocatori che fraintendono e capiscono che sia una sorta di gioco erotico di cazzate me ne sono successe e questa è una delle ennesime sfumature di sarebbe tutto più semplice se ci si limitasse a picchiare i giocatori sì lo so ma non farlo dimostra non solo una grande pazienza zen ma anche la propria superiorità morale su di loro poveri giocatori sfigati e per restare in tema l'ultimo contributo per quest'anno ce lo porta a gabriele capponi anche lui con un'esperienza terribile come master peggiore esperienza da master avuta con una giocatrice mia amica oltretutto durante una sessione di sine requie avventura presa al matone ale ambientazione quarto rai che eravamo la seconda sessione la parte girava un po su binari ma nulla di eclatante a un certo punto dico il gruppo che i loro piani sono stati scoperti o qualcosa del genere apriti cielo uno scontro verbale estremamente aggressivo e senza senso su come non fosse possibile su come nel terzo reich le cose fossero super segrete accusandomi di non conoscere la storia a modo di essere un pessimo master che l'avventura facesse cagare ok io la storia la conosco questa parte fa ridere per altri motivi insomma mi dimostra di non aver capito nulla nell'ambientazione nessuna immedesimazione nessuna sospensione dell'incredulità e zero senso critico spoiler nel loro ufficio c'era una spia ecco il perché erano stati scoperti sessione troncata a metà ma l'umore collettivo e giornata rovinata da quella volta abbiamo sospeso sine requie per un bel po poi ripreso molti mesi dopo ma che con lei che non partecipava e possiamo finire con questa storia perché a quanto pare è l'unica di quelle che effettivamente ha un lieto fine il giocatore fastidioso non è più insieme al resto del party e con il contributo di gabriele finiamo anche questa seconda parte dello speciale di halloween del canale del master cae se non avete visto la prima vi lascio il link qua in alto andate da recuperare quella è la parte in cui sono stati inseriti tutti i contributi di quelli che hanno mandato un video e non un testo e in descrizione troverete anche il link al terzo video di questa serie che però è stato pubblicato sul video di dungeons and drone da max che ha raccontato con dovizia di particolari una delle storie più surreale che abbia mai sentito accadere a un tavolo ma che non ho potuto inserire in questi video per via della monumentale lunghezza per questo video invece tutto ora la parola sta a voi scrivetemi nei commenti quali sono le vostre peggiori esperienze non è detto che non le ritroviate poi nello speciale di halloween dell'anno prossimo se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del server di disco del gruppo i telegram dove metto io a mano le notifiche ogni volta che esce un video e dove trovate il resto della community del master cae che sono poi anche i geni malvagi dietro la creazione di video collaborativi come questo quindi magari vi può interessare a partecipare io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video